Ma poi per il lag alla fine miracoli chiaramente non possono fare, anzi io non ho mai visto una partita crollare Ma Eva? Abbiamo trovato un livello 82 Ok, la Predixnike stasera non è... Ok, io vedo Wario e Daisy Vedo una Rosalinda Allora io non penso che da Kimono abbia preso Wario o Daisy No No, da Kimono è Wario da me Ness è Daisy Da me Ness è Spruzzi No, invece Ryle è Spruzzi Eccolo uno che ci viene da provare Salutiamo Spruzzi Spruzzi Ryle Non sono una Spruzzi, non sono una Bocchinara Avrò le videoprove di questa cosa ragazzi Non potete accusarmi Io faccio lo stream adesso Così io ho la controprova No, cazzo Già, io non posso streamare Ma consenterò degli screenshot e delle clip Vabbè, dicevo Nike La Predixnike stasera è Quanti turni dura Maeva prima di quittare Dai, un livello 82 che ha scelto volutamente 20 turni Speriamo, cavolo, che avrà le palle da arrivare Ma come da me, ah Nike non lo sa che online i personaggi sono messi a caso Perché quando tu scegli il personaggio tu puoi scegliere chiunque e poi vai online Quindi il gioco non può mettere due rosalini Cioè se io prendo rosalina sarebbe il fatto in modo che non mi può fare matchmaking con un'altra rosalina Allora diventerebbe difficile Quindi visto che tutti i personaggi teoricamente dovrebbero avere la stessa hitbox Il gioco te li mette a caso Praticamente anche Confermo che ce l'hanno, sì Perché lo dicevo sul Sul gioco degli asteroidi Io vedo Donkey Kong enorme C'ha le gambe lunghissime Tocco con i piedi Gli asteroidi Ma non Non vengo molto Io voglio l'oggetto Ah è vero, adesso abbiamo il tempo su tutto però Quindi non si può giocare tantissimo stasera ragazzi Minchia Ma non lo prenderò mai Ma che minchiata Oddio Nike, secondo me Cazzo Potevano mettere la schermata in selezione di personaggi È vero Nike, però così Non lo so, ti rubavano il personaggio, ti incazzavi, quittavi C'è della gente che l'avrebbe fatto sicuramente Quindi questo funziona solo nell'online con gente random però E quando giochi con amici ognuno sceglie il personaggio e si vedono tutti Infatti ha super senso così Cioè a me non dà fastidio Perché alla fine chi la conosce sta gente Non me ne fotte un cazzo se Maeva è un'altra Rosalina o quello che è Ma infatti questa è la cosa che mi spisce di Nintendo Io mi sarei aspettato che metteranno il matchmaking limitato ai personaggi No, io infatti l'avevo pensato assurdo Oddio Adesso succede il bug come quello del video Minchia Maeva che preme subito, è già una CPU quindi Dai Maeva facciamo tutti da Maeva Comunque Nike io sono Valuigi non sono Daisy Quindi quella Daisy è un Valuigi travestito Maeva cos'è da te Ness? Da me è una Peach È un Mario Anche da me è una Peach Da me è Mario Ok, ah non ho copiato come aveva fatto Eh copia da me Da Struzzi copia Cazzo Dai fammi vedi Fammi vedere bene da chi Fammi vedere bene Io provo così Ok, sono quattro attacche Sono quattro attacche Adesso sbaglio sicuramente Dai Daisy Anni di Mario Golf sul GameCube L'hanno esercitato Oh vicino, cavoli E vai Walu Daisy ha vinto Walu Daisy E vabbè comunque ha preso un altro personaggio musulmano da me Quindi Da me sei Struzzi invece Io sono Struzzi Anch'io sono Struzzi Sì, esatto We are Struzzi We are Struzzi Invece mi avete detto Da te Ryle sono Wario E da te? Rosalina Rosalina Bello che sto guardando stream di Ryle E quando faccio gli sticker Ci sono quelli di Daisy Eh sì Non mi ha visto anche lo della stella Ma tanto sto facendo due passi o odd As usual Intanto vabbè Giochiamo a caso A me importa Voglio gli applausi Voglio gli applausi Eh pietà A me ne mancano circa 1500 Sì ma che voglia appunto Cioè io ho perso la voglia di giocare con Rano Ma appunto perché finisce sempre con Due CPU e un altro che magari non mesha Che magari per Eh ma si ma è mega noioso Come si dice in italiano Spite Aspetta Per dispetto non applaude È successo una volta Ah incazzati così tanto Che spammano no dai Che spammano Quando è stato che Ah ecco una spammava questa continuamente Perché mi aveva rubato la stella dal VU È finita la Bowser E l'ha perso la stella Quindi L'ha cominciato a spammare Vediamo Faccio come vuoi Io gioco Ah posso giocare solo 30 secondi qua Eh vabbè Però sono 30 secondi di gioco Dai Vai ma Eva Vediamo che cosa hai in mente Lo sticker proibito Eh tanto non sono io Oh cambia la direzione Bravissima ma Eva Perfetto Oh non compra Ma Eva non capisce Che con i bonus random Bisogna comprare Sì Ah perché è così forte Che non le serviranno i bonus random Probabile Le serve premere A Si dimentica di premere A Livello 82 Non sa che bisogna premere A Per andare avanti Ok Beh Ma livello 82 cos'è? Tre partite tipo Quanto scommettete Che appena arriva All'albero Si dimentica di premere A E siamo lì due minuti Magari non l'ha mai fatta Cioè raga Non ti sfottere la povera Ma Eva No ma succede Non sa neanche di essere Insieme a tre persone Che si stanno giocando insieme Dopo che Dopo che dire l'amicizia Chi dirà tu? Io ho già la betti Ragazzi ci avete la betti dietro? Dai Mica Questa vera è la betti in una casella dietro? No niente Sto mi gioco Mi hai fatto veramente cagare il cazzo Penso che abbia vinto da chi Ma era sempre sotto Si si Oh io ho sentito tanto Ma Eva A godere No no C'ero più lungo io di Ma Eva Ma è vero Sto guardando Rosalina E stavo dicendo Ha vinto Rai E invece no Adesso capisci come ci si sente Quando hai preso Wario Mentre giocavamo con Wario Avevo delle crisi di identità Va bene Quindi vedrai finalmente Rosalina vincere Non hai detto Potrei vedere vincere Mario Che da te è Peach Ma Mario chi? Da me Mario è live Ah vedi eh Ah quindi avremo 4 foto diverse anche Della schermata di Vittorio Quanto interesting Ah è giusto ma Eva non sta usando i sticker Quindi invogliamola Ah li avrà disattivati Che mega competitivo Sì abbiamo già rotto le scatole Ok li ho disattivati State spammando Sì Che non vedo niente appunto Forte Ah come Display Sticker Shows C'è appunto anche qua L'opzione di disattivare gli sticker Che puoi farlo solo con i random Cioè Nintendo ha pensato a tutto qua Sì sì ma infatti Stavolta era tanto di cappello Avranno giocato 6 volte a ogni tabellone Che tappi Ma io ho notato che anche nei tabelloni Tipo distribuzione degli oggetti e certe cose sono abbastanza pensati bene Comunque Agni agni ma Eva A parte il bug del fischietto su Spaceland Eh io sono curioso Che qualche smanettone col chiz La faccia con la prova lì Dicevo con chi sono con Ness ok Mi ero perso Oh la gincana a coppie con Ness Oh la gincana La gincana Daglie Vediamo se Maeva è brava Maeva non sa neanche andare avanti Abbiamo già vinto Ah giusto Lei freme subitissimo Sa già tutto Occhio con lei 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 Ok prova a mashare con l'indice qua Daglie Ok Ok come dicevo l'altra volta Mi ricorderò sempre che la cp1.4 fa sempre così davanti al muro Salta Si continua a saltare contro il muro Così Ok adesso qua devo stare attento Che si salta con la Che ogni tanto mi confondo E cerco di saltare con B Io sbaglio sempre il tasto Short hop eh Ricordatele Si si Short hop e non sbagli Vai No maeva Maeva non si è allenata bene Ah madonna Sbaglio sempre sto cazzo Ok adesso c'è la A.T No Ops C'ho troppo Non sperava più Ok Adesso premo anch'io così va velocissimo Vai Maeva è un po' Imbranata con i salti Oh trovato subito Eh spero prova Non andare subito spedito Quello che hai davanti salta dentro Tanto a caso Quello giù Quello giù Ma qua non ho capito Veloce o Vediamo No è uguale Maeva è il tubo era il mio Vabbè Dai che sono arrivati Dai che sono arrivati Pompane le casse Dai Eh vabbè Vabbè A parte essere No Nike veramente Quel gioco lì Se non sai fare i salti Devi sapere che devi fare il saltino Basso Perché se fai il salto completo Voi lì giù Non so perché Ma è così Oppure fai come me Che mi confondo E cerco di saltare con B Invece che si fa saltare con A Oh wow L'Aki Vabbè Bravo bravo Bene bene Oh Che colpo Aspetta Gran colpo Aspetta Eccolo Dice gran colpo Bel colpo Ah no Guarda dice l'Aki Mi raccomando premia Yes Secondo me Dovrebbero farlo random Sto albero Infatti Grandissimo Ovviamente Ignoriamo il negozio Per ovvi motivi Ma c'è un bellissimo Forstiera che non puoi comprare Eh già Oltretutto questo negozio Potevano metterci Una scolopendra Era un troppo No la scolopendra Non c'è qua Perché è andata a giocare a golf Eh ma quello che dico È proprio quello Cioè hanno proprio voluto Dimenticare l'esistenza Della scolopendra Per qualche motivo Sì In realtà è strano Che l'abbiano proprio Censurata così Su sta pista c'era Quindi Dai Però Vabbè Possono andare sulla verde È di nuovo davanti a me Però Certo Ah ma c'è Ma Eva Ma non ha soldi Un lato Ah no Per un pelo Peccato Ecco Avrei anche tirato bene Eh beh Qua La scelta Obbligatoria No Sì La scelta Obbligatoria Yes Pronto Non sento nessuno Non stiamo parlando Sì sì Ci sono Ah ok ok Eravamo sconvolti dal warp block Ma Eva sta per buttare Secondo me Sta a pensare Sta a pensare Perché non ha soldi Tra la stella Sì Ha lanciato il controller In giro Lo sta cercando adesso Devevo svegliarla Eh avrà disattivato Gli stick Ah ok Si è decisa L'ha trovato L'ha trovato L'ha fatto pure dieci Va beh Ma è un achievement È un achievement in più Mi dimentico Siamo Achievement O achievement Sai che non lo so Che dico achievement Questa c'era allora Decisa Io ti ho sempre detto così A meno che ho sbagliato Sempre io No no E poi mi è un po' il dubbio Perché ogni tanto Lo pronuncio a caso Vabbè Mi sembra sui video tutorial Mi sembra che lo pronuncino Achievement Allora a posto No i cannoni No i cannoni Ok qua c'è il timer C'è il timer qua però è vero Eh meglio Meno male Sofferenza limitata Qua è già patchato il gioco Aspetta Ma Eva deve la barre qua Ok no Già pronto No no Ma Eva ha fatto solo survival Tipo secondo me Vedi qua c'è un minuto Di risoltamento No 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 ma Eva You ho Ma cavolo Ma cecchina Ha beccato Due colpi di figa Ecco va Morto No cazzo Oh cazzo Oh cazzo Oh cazzo Ma tipo se io ho più vita di lei vinco No Eh no mi sa che è thai Ok adesso è thai Ok l'hanno risolto Cazzo ma è fortissimo Ah ma qua è un'accettiva Cioè non sbaglia un colpo Ah no no Porca Eva Sì Somma mia Porca ma Eva Cioè Vabbè niente da dire Meritata Ben fatto Ben fatto Eh sì giusto Anche se non lo vede Perché non lo vede Magari li vede tutti No no Se è disattivato Non vedi niente Come fai a sapere Che l'ha disattivato Solo perché non li usa Vedi Eh Ci ha ringraziato Era solo un po' timida Ah devo giocare un po' Scusate Salute Ah vuoi far tre Ok Oh no Oh no È finita è finita Ehi, veste che ristrosse! Mmm, davanti al gu, davanti al gu! Adesso è la freccia giusta, provo ad andarci, ovviamente no! Ah, non hai la chiave più giusto! Ma poi, se c'era la freccia a sinistra, facevo il giro largo! Sì sì, certo, no, però con la chiave potevi andarci negli casi! Sì! Non saperei cosa avrei fatto io, avrei preso i soldi, cioè ti preparavi la casella prima, prendevi i soldi e il turno dopo snapperavi l'evento! Posso farlo adesso, però se la giro adesso va a destra, poi va di nuovo a sinistra, quindi io mi muovo verso... cioè adesso va a sinistra, poi va di nuovo a destra! Mi farei un evento in più, però... Speriamo sia l'evento della vittoria! A te! Con che violenza! A meno che adesso qualcuno... Ah beh no, aspetta, però... Non ci posso arrivare io su quella verde dove sei tu! Ci può andare nessuno alla talpa gigante, sì! Eh no! Poi vabbè, non avrebbe senso perché mi avvantaggiate ancora di più! No no, chiaro! No vabbè, se uno ci arrivava random, no dico sulla verde dove sei arrivato tu! Ah beh, poteva andare sotto in ogni caso, anche se mi veniva il numero quello! Un'altra verde no, prima! Oh, potrei fare il colpaccio! È vero! Ho solo 30 secondi, devo girare subito! Colpaccio è quasi fatto! È vero! Quasi fatto! Beh no, invece si avvicina! Cioè, se adesso fai la verde! Uh, ottimo! Eh! Adesso c'è la freccia giusta per andare a sinistra, quindi... Eh già! Se ci arrivi! No! No, voglio soldi! Ah vabbè! E' un'altra ricca! Perché in effetti potevi andare sopra verso la stella, se... Adesso! Sì sì sì, ma adesso adesso riesco a farlo adesso! Vediamo cosa fa Maeva! Silenzio! Cosa è un evento? Intanto non ha oggetti, quindi non... Nel'altra rossa! Rotta di nuovo! Tutti contro Maeva, no? Potrebbe essere... Oh! Monete per due! Oh no! Tu è Maeva! Let's do this! Tu è Maeva! Sono un po' Rosalinda che non è Rael, che è da Timon! Dai Maeva, pupa! Oh sì, bello! Oddio no! Questi no no! Vabbè dai! Sappiamo già tutto! Vediamo se Maeva è una di quelle che si sbaglia in Masha! No, però stanno andando lentissimo! No, invece è Pro! Stanno andando veramente lentissimo! Oh! Bella! Mi ha un po' spaventato, ok! Ho sentito il primo ta-da di Rosalinda solo perché l'ha fatto! Ma io ho fatto... What? Dai! È chiave! Wow! Che colpo! C'è? Sì c'è! Noooo! Non ho detto i moneti! Noooo! Non hai detto i moneti! Oh! Oggettino! non voglio un'altra chiave qualcuno ha labbato non ho labbato però ho visto come lo fanno online ho visto altra gente che ci arrivava ho ripetuto si praticamente devi beccare il punto dello slancio prima che cominci a salire esatto ah ah peccato speravo in un 1 no no vado vado giù a comprare fai terrorismo coi fortieri magari c'è un fortiere anche qua è il secondo tubo che ti mettono in culo è il secondo che mi farò scappare eh no ma c'è un delego quanto ci mette a premere rispetto a quando premio io non lo so io comunque primo sempre uno prima di quello che voglio e mi viene sempre eh mi sembrava di aver premuto giusto magari invece è andato ma Eva che lag eh magari infatti un po' di lag ma Eva è una calcolatrice quindi silenzio basta fisciti ma Eva sta calcolando al contrario di Wario però non guarda la mappa non ne ha bisogno ok silenzio silenzio adesso rimarrà qua ferma ok guarda che non sa che bisogna premere A ecco quando ne la stiamo sottovalutando povera fanciura infatti ce le metterai in culo tu ok ha premuto A eh è andata a capo però questa cosa non la sa nonostante ci abbia visto eh ma neanch'io neanch'io lo sapevo eh cioè ci ho messo qualche partita a capire che potevi farlo che sceglievi io l'ho scoperto proprio grazie a Ness l'aveva detto a lui eh no anch'io magari lei è la prima volta che gioca su sta pista cioè a livello 80 non ha giocato tantissimo no ma io l'ho scoperto a casa perché ho detto ma cosa succede se aspetto perdo tutto poi ho visto che mi potevo muovere quando si vedevano bene i cubi allora buona oddio era ovvio che non era mai Eva che mi sparava subito di lato eh eh cavolo violentissimo ma Eva ne ho ucciso subito eh vabbè no ma Eva non facciamo scherzi tu ti voglio tanto ragazzi con il suo carro armato d'oro com'è da che mi non riesci un po' leggermente a spostarti a sinistra per andare dietro al tubo si lo fettiti eh beh adesso sei culato da su la colpita eh infatti l'ha pensato a te l'ha pensato a mettere ma vuole far slittare la palla a fianco ma vabbè ah perché hai una vita perché se no ti facevi colpire e sparavi durante l'hitstand eh no infatti non posso vabbè comunque vincono tutti beh finalmente hai trovato qualcuno con cui fare tre egue eh beh sì vabbè tre egue mi sono spattato i polli per sparar lato di tutti cazzo se mi usciva la chiave era un colpaccio vabbè eh beh sì la cosa buona è che adesso posso cambiare la direzione dei cartelli spero esca la stella a meno passi per favore adesso cambio la direzione dei cartelli perché non voglio che Maeva vada a rubare ovviamente e poi potrei andare su chance time ma non lo farò c'ho no c'ho troppo da perdere su un primo su questo momento fai girare la mia stella qualcuno 33% che c'è a te 9 bene bene una moneta una moneta non so da cosa dipende il prezzo qua insomma è vacuita per questo perché gli hai girato la pelle probabilmente ah io quasi quasi ah mi prendo un triplo sì che sì sì che il doro già ce l'ho non usato ah buono così posso rubare la chiave al game on finalmente il forest shop il prossimo tubo dorato che trovate lo prendo io finalmente esatto no vabbè bonus rosse dai vai in rosse non ti metti a rosse finora ah non so quanto tu cazzo è vero ah vabbè ok mi sa Maeva 2 partita completamente random oggi Maeva 2 io e nessuna rossa però non le ho puntate tutte verdi ce ne dovremmo avere boh non lo so io ce ne ho due io ho due ne ho fatte due in un turno gli altri in un turno io ho mezza no io ho una e ho preso solo l'albero chi la ferma più adesso tutti contro Valudesi contro Daisy l'italia spinata no non sono bravo con i predict ma il punto debole dei tre è durante il salto comunque ho notato guardando il gioco quindi devo approfittare di quei momenti tipo adesso che state rallentando tutti ecco no ma è va no ho mancato in volo ma è va via da lì ah no non sono non sono capace qua vabbè no ma hai quanti colpito ma vabbè ottimo ottimo ha funzionato la tattica uno dietro e uno avanti non c'era tempo di colpirli tutte e due ancora lassù figa non la prenderà mai nessuno si impatti so se andare subito sul chance time ecco ho delle vaccaselle abbastanza vantaggiose davanti c'ho versus item e oggetto quindi però l'attivo normale è un versus quello? è tutto? si oh my god è time 20 che bottino il gioco si fa interessante è importante oh no faccio schifo oh questo lo adoro c'ho quasi il war record su questo ah non è fatto la mobilità rispetto al set adesso lo sbaglierò tutto ovviamente ecco tipo qua un docking con ti confonde l'hitbox perché sembra gigante ma in realtà si ma adesso la quina è wario ah nooo ah nooo c'è stato un punto in cui sono caduto giù di 4 paratruppe e fine questo è il minigioco su cui ho fatto il top 100 della classifica perché poi ero all'ultimo cupa dove si può saltare e praticamente però niente ho sbagliato il time ah perché è un limite? si esatto cioè c'è un limite massimo che non hai tempo di far di più io potrei camminare se non stava andando bene ne ho cannati due potrei muovermi se no tanto non c'è arriva più nessuno no se facevi 3 set vincevi 50 monete ma c'è ancora sta cosa? si ho detto non so se è stato lì Mario Party Legacy no c'è stato un video che che mostra tutti gli oggetti e faceva vedere anche cosa succede con i numeri uguali solo che ha detto fare 3 set è troppo impossibile e quindi non lo faccio bisogna essere tolto perché 2 set mi pare che non dà più monete aspetta se non mi sbaglio mi sembrava 50 magari 30 certo che però non ho fatto una gran mossa perché adesso che il cartello ti gira dall'altra parte io te faccio uno comunque ti gira e rigira quindi in realtà non c'è arriva comunque la cosa un po' come capo se dopo che gira esatto magari Maeva ti fa una gentilezza quando si rende conto per il suo turno Maeva è molto somarchiosa ok quando la fischiamo magari c'è il snike sai yes yes si Maeva dai no no dopo tutto non ero stato proprio galante oh my god che cosa fa Maeva adesso scopriamo che è la maestra minchia davvero sa fare anche l'ultimo blocco secondo me Maeva esatto vediamo se sa intanto del che se mascia subito cioè quello della stella magari non vuole la stella esatto magari vuole tutti i soldi didachive o no? esatto io di quello ho paura ok non lo sapeva è che ha 15 secondi Maeva quindi oh Daisy 30 moneta Daisy grazie da Maeva buon quinta raga e li da lei e adesso la è squinta eh questo è un buon vediamo teniamo d'occhio il nome che diventi da Maeva a Mario esatto mi dispiace ah per me pizzo diventa non doveva andare così potrei fare il chance time galante e ridarle i soldi no? il Robin Hood del chance time prova il mega fungo l'ha fatta a casa ai 15 secondi nel chance time online con gente random quindi niente facciamolo trovare facciamolo trovare Maeva e poi saltiamo sul fungo eccolo mamma mi ha preso la gonna no ho predictato stiamo andando nella direzione giù oddio gigamaeva vada vabbè così ritorna il morale io metto un mosto perché ero convinto di averlo preso il fungo in realtà l'avevo licitato e noi gli ero andato un contro anche la seconda volta in realtà 53 21 vai Rael cosa faccio do soldi a Mae eh no la stella 5 Lo fa? Certo che lo fa, lo farò sempre Se giro le frecce aiuto da Kimion, no? Eh, effettivamente Sì, perché adesso va a fanculo a destra Quindi mi dispiace, ma no Hanno un accento strano le tarpe, non so cos'è Scrivono ta Saranno romane? Eh, in inglese non so se c'è un accento romano, Ness Anche tu E su Walter in Time Story, effettivamente parlavano romane Hai mai sentito un centurione parlare in inglese? Oddio, oh mio dio No, che cattiveria Vabbè Eh, vabbè Eh, sfamerà un grazie Adesso quitta, tipo Ecco, bel colpo Bel colpo Allora, io è proprio inutile che vada su Vediamo che Eh, no, è inutile che vada sulla verde Perché tanto dopo al prossimo turno cambierebbe lo stesso A meno che adesso qualcuno A qualcun altro non ci finisca Eh, ma no, cioè qualcuno mi paghi le talpe Quindi sono l'onesto Ma non penso lo farà, quindi Eh, quindi io non uso niente Anche mi ha dato lo sticker Eh, vabbè, per forza Eh, vabbè, karma Lei ha fallito Ho fatto davvero il Robin Hood del Censtein, raga Devo farmi fare un artwork da warriuzzo Basta due, basta Ok, quindi il prossimo turno va proprio a sinistra Quindi dopo ti ritorna anche verso al Censtein, perfetto Esatto Ok, andrò nel Censtein Ma io lo potrei fare in effetti, eh No, non vi ha disattivati Ne aveva usato uno anche prima Sì, sta stupendo Ma infatti quando lei non gioca Noi fischiamo e vedi che arriva Quindi sta sentendo tutti gli effetti sonori Io in effetti lo posso sniperare il Censtein E mi posso cercare di riprendere la stella Un po', vedo un bel esplosione Invece Ma c'è il tempo qua su Bowser Big Blast Ah, potrebbe Eh no, perché ti fa premere in automatico la leva dopo un po' Sì, sì, c'è il tempo No, ma dicevo a livello di round Non di decisione Che quando la giochiamo noi siamo segure No, dove è andata a Sturzi? Minchia, le sto beccando tu Ma che culo Io non ho vinto la seconda Vale Ma sta No, l'ho mancata Cazzo, l'ho vinto di Niela L'avrei dovuto comunque vincere io Sono ultimo Ho premuto in su troppo presto Io ero troppo concentrato sulle mie porte Non ho visto niente di quel cacca levantone Ma poi No, non ha senso Quando esci da una porta a rientrare nella stessa O sì? Eh, non lo so Sì, ritorni indietro Ok No, no, non puoi tornare su Non puoi tornare su No, no, no No, no, no Però ti hai sbagliato la porta Quando prendi una porta che sbuchi in un'altra, da un'altra direzione Se rientri in quella, ritorni in quella che hai preso? O può essere quella giusta? Sì, sì No, 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 no Ritorni in quella che hai preso È un loop infinito se lo fai Ok Allora bisogna sempre prendere porte diverse Yes Eccola Sì, esatto Wow Chance time Io però non sono molto skillato su chance time Vabbè, ti dico cosa vuoi la stella? Sì, sì, no Quello lo so Quello meshi, ok Eh, non sono tanto bravo a fare, capito A bescare me, praticamente Eh, devi Eh, Ernesto non ha la stella Beh, ce ne sono due Cosa vuoi mettere tipo la tua faccia? O preferisci mettere chi ha la stella? Allora No, cioè la mia faccia Ok, quindi per fare la tua faccia Devi premere Quando è centrata la faccia di Peach Eh, di Maeva Non so chi è da te Eh, sì È Peach anche da me, comunque Ok Quindi se vuoi Che esca la tua faccia Devi premere quando è centrata Ok Peach Maeva Quello che è Ci, ci provo Secondo me adesso Maeva impara Che se mi esce subito Esce quello di Dastella Quindi se va al prossimo Io veramente mi scrivo Io non ho giocato con tanta gente random Forte, tra virgolette Però mi sembra strano che non lo sappia nessuno È veramente una stronzata Oh my god Oh my god Hai mancato di No, so anche di Vabbè La facciamo girare Povera Maeva Che motion a roller coaster Comunque hai sbagliato di uno Hai premuto troppo tardi Perché è uscito Ness invece di te Ok Maeva mi sta dando tutto Se usciva Maeva Avevi proprio cannato completamente Invece se uscivo io o Ness E poco più o poco dopo Quindi dovevi premere un pochino prima Sì, ok Comunque Maeva mi sta dando tutto Trenta monete Una stella E qua cosa stai? La chiave? Il blocco d'oro per il chance time Ness Eh, ma ci trovo No Devo Devo pushar di più Per la stessa non chance time di Juarez No, però abbiamo sostituito Juarez con Maeva Poverina però Dai La sua stella guadagnata con tanto sudore Esatto Tanto teniamo d'occhio quel nome Che da Maeva Viene un rio Esatto A posto di Eva Ecco, adesso bisogna svegliarla Secondo me non è neanche visto che ha perso una stella Così è ancora contenta Lo scoprirà alla fine della partita Quando perderà il suo Magari Magari la bambina che è andata a chiamare la mamma Mamma, mamma Mi hanno dato una stella Vedi, la stella non c'è più Magari è un quarantenne obeso Con il tunnel carpale Invece Ness Sarebbe bello che la mamma la pizia Non mi chiamare Non mi chiamare Non mi chiamare Non mi chiamare E' ancora steno E' intanto è finita sull'ennesima rossa È proprio Ma è con te È con te Maeva Oh Il colore legumba Sai, pensa Ness In sto gioco avere la Betty Secondo me tira fuori lo splush anche qua No, povera Maeva Ness Dai, camista No, no, no Cos'è sta cattiveria Ma in realtà non è male Abbiamo beccato una persona Comunque che non gioca malissimo No, infatti Perché, cioè Io ho beccato un sacco di gente Molto peggiore Che proprio non sa cosa fare Non ha ancora acquistato Nonostante diverse ingiustizie Che le sono successe Di Kudos Maeva Kudos Mi schia aperta tra me e Maeva Su quel cazzo di Goomba a sinistra No, Maeva No cazzo Minchia Maeva li ha fatti tutta alla fine Davvero Splatoon Pro Vediamo se schifra la gente Uno davanti Mi bloccava tutte le cose Guarda che brava Maeva Che non schifra È vero Non saprà neanche Ma è Ma abbiamo capito Abbiamo capito Che a Maeva piace prendertela Forward Ok, è andata a chiamarla Mamma di nuovo Ma Ma era pure bonus Minigioco Ah sì Sì, cazzo Oh cazzo Non l'ho neanche visto Eh, oltretutto Non possiamo neanche Comprare tubi Quindi quella stella Davvero rimane di per sé Finita la partita Tipo Eh, prenderò il triplo Ah, ah Dai, fai come me Prendi il tubo d'oro No, non sono come te Pensavo Ma Maeva magari lo prende Ma ha già superato Perché non ci pensava Però ha già superato lo shop Eh, lì c'avrei un conflitto morale Se rubagliano o no Sennò appunto Gli rubo i soldi Sì, esatto Ma io avevo tipo Un goomba davanti Che mi bloccava tutto Quindi io continuavo A colorare quello E quegli altri sotto Si proteggevano con quel goomba E lei li colorava tutti Oh, no Per ruolo Un altro due Cinque Va bene Non è un due Dai, dado d'oro È un altro tubo dorato Un altro tubo dorato Un altro tubo che fallirà Esatto Esatto Vediamo No C'è neanche il dado d'oro C'è guardo però Eh, sì Mi tocca Warp È l'unica recente Se no Al triplo Oh, shit È questo, vero? Sì Ok Stavo guardando Ottimo Bene Si può comprarlo Tu, però Eh, ma poi me lo rubo Quindi è meglio di no Ah, addirittura Dai, svegliamola Eh Mamma, cosa dovrei fare? Mamma, mamma Secondo te devo tirare il dado? Sì, figlia Tira sto dado Figlia Non la chiama neanche per nome Esatto È ancora incazzata Perché l'ha chiamata per nulla Tutti contro tutti Scaduta preziosa Dai Sì Vai Questo l'adoro Ah, questo non mi è riuscito online C'è con voi Esatto Infatti Ah Non bello Lo devo chiudere io Ok Sì Eh, non l'ho prenduto Perché si è chiuso da solo Ah, perché è in cima No, sto rubando tutti i soldi a Maeva Perché gli cado No, si è chiuso il sacco Vabbè Maeva Figlia Sark Guardala, guardala Guarda Tutti i Sark Sì Ah, ma qua puoi fare anche 50 monete Tipo Eh, purtroppo Quando sei in posizione centrale È difficilino Questo, però Vabbè E sempre su tutti i sacchi Non sono riuscito a fregare Sì, ma però Non è una partita dove servono soldi Al momento Serve che qualcuno Vuole questa cazzo di stella Esatto Beh, io tiro la tripla E andrò a prendere la stella No, tutte le frecce giuste Vabbè 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 La banca si sta facendo su cosa? Eh sì E che poi si gira tutto Che palle Già Un altro tre Boh Beh Signori Io direi che vi tolgo da lì Aspettate però Su che casella vado Prima di tutto Allora Ce n'ho ancora otto Da qui Quindi Porco Diamine Bowser Non compro la roba Per il chance time È vero Ora però Devo camminare un po' Se continuino a fare uno Comunque Dicevo che vi tolgo dall'impaccio Potete comprare i tubi adesso Se Ness Vuole usarlo su di me Ah Vabbè Lo provo Lo provo Sicuro Ma che vada Ti c'è un'altra chiave Ness No Vediamo cosa compra Maeva Allora Prima Vediamo cosa compra Maeva Oddio Eh infatti Questo non mi era piaciuto Allora Ottieni 100 stelle Scompiglio No Vabbè Dai Non è tanto male Uhhh Questo Questo è Bastardello Ah ma come sta ferma Maeva Vuole fare Luigi Wins Esatto Ma è questo un gioco Che può succedere Quella cosa Oddio lo spingo Nooo Non ci ho capito niente Nooo maeva Wow Oh è grande Sopravviviamo di Araya Eh questo è un altro gioco Che è difficilissimo Con la Xbox gigantesca Di Donkey Kong Io due volte Mi sono visto Praticamente Spuntonato Eh ma adesso con Wario Sei andato molto meglio Dai dai Proviamo Aspetta Sei Rosalind Un po' strano Una chiave Un'altra chiave Oh my god No Vabbè Peccato Magari è la chiave decisiva Adesso con due chiavi Vabbè 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 Vediamo cosa può fare Ok se lo giro Se lo giro mi manda la stella Vuol dire che Sì fa impavorare Il SG Non cambia niente Oh Ah ho solo 5 secondi L'altra chiave No vabbè No vabbè Dai vediamo cosa compra Se dovevo aspettare Eh vabbè Per forza lo compra adesso Ce l'ha davanti Ah giusto Mamma mamma Cosa devo fare adesso? È vero Dovevo pensarci Eh vabbè Dovevo vedere Dovevo vedere Dovevo vedere Da Kimion sulla mappa Poi dovevo prendere Il costo del chance time E' una decisione difficile Esatto Oh cabone Adesso Aspetta Suggeriamo il tubo No 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 Non compra il tubo? Ma perché? Ma Eva Ok io sto guardando Se non è già diventata Una CP A quanto pare Beh magari ha un piano Ragazzi Noi sfottiamo sempre Esatto Intanto ma Eva Si è vista strappare Tutti i suoi veri Dal chance time Vuole andarci Dice no Non voglio recuperare La stella Nel modo facile No ma Eva Ma perché non aspetti? Eh Non ha capito Dovevamo tornare di E fare il capire E fare il capire Devi prendere A Ma secondo me Neanche li guarda Cioè ecco perché Va di là Tipo Va in un'altra stanza E poi quando arriva il turno Suo Senti il fischio Senti fischiare Esatto Ok Abbiamo fatto tutti squadra con Maeva una volta Ce la stiamo passando Questo che sono negato Conto tutto su Maeva Ok E infatti vedo com'è Guarda com'è Come sta provando Ha capito tutto Maeva L'abbiamo persa Maeva Ma porca Eva Dobbiamo fare il minigioco Sai Vabbè Adesso si sveglia Aspetta Facciamo andare la cutscene Così C'è più tempo Ok Torni È tornata È tornata È tornata Madonna Madonna, perfect! C'è, sto midi gioco non potrà mai essere combattuto, è sempre one-sided. No, io mi sono fatto... Cioè, stavolta non avevo fatto neanche tanto male. Però, vabbè... Non è bastato. E' che c'è anche la seconda a destra... No, non lo uso adesso, che palle! Vabbè, è la cosa migliore che poteva uscire. E infatti in chat dicono da prima non dare la colpa a Maeva dell'accaduto, allo minigioco. No, no. Non dirò nulla. Ah, cavolo, adesso prende la stella più rubi. Sì, potrò anche rubare. Esatto, esatto. Però se non arriva col dadolines potresti provare. Ah, però aspetta una cosa. Io mi sa che, come al solito, non ho calcolato la banca, porco diavolo! Ah, la banca no! Eh, forse mi fermo prima? 3-4, potrebbe essere un versus lì. So che c'è un versus qua vicino. Deve andare a destra. Davanti a Maeva, dai! E invece... E di nuovo qua, di nuovo. Non ha ancora fatto quella adesso. Questa era la prima, no ragazzi? Era qua. Quella che ha preso da Kimion. Eh sì, sì, sì. Non ha ancora fatto le due adesso. È un versus, è un versus, grande. Cioè, grande. Non so. Devi sopravvivere al warp block di Ness. E anche, è vero. Beh, uno su tre. Ma che vada, vado da Maeva e con il mostello. Se tiro bene. Ah, è vero. E te, mi son scordato dove sei. Ok, buono. 15, buono. Onesto. No, gli incisori. Oddio. Guarda quello d'ambo là! No, quello dei cavalli, no. No, quello d'ambo. No, quello che d'ambo amiciare. Ah. Ah, ok. Prova, che ti ricade le due dita stavolta invece del dito unico. 3, 2, 1. Cerco un indice medio. Oh, mi sembra che Maeva ci porti, ma era intanto. Anche io ho fatto con due dita, speriamo che ho fatto bene. No, questo sempre colpo al due dita. Mi sa che non vanno allo stesso. Il mio record personale è 46,80. Vediamo se ho migliorato comunque. 55. Vedo Maeva che barcolla, ma non molla, invece si uscita. Nooo, nooo. Niente, vado meglio di pollici. Dai! Aiaiaiai! E' più bello quello dei cavalli. Vabbè, questo è mashing, quindi... Non ci va molto a battere un gioco del genere. Vabbè, 6, non perse, 9. Eh, però Daki non ha soldi adesso. Vince il minigioco. E' un gran guaio. Ma Eva saprà come si sabota qualcuno. Vabbè, se prendi me, ok, vabbè. Nooo. Era la tua cosa peggiore per te. Però io mi trovo davanti al negozio, va bene, va benissimo. E' l'assoluto non è peggio. Era la cosa peggiore per te, sì. Adesso non più, perché posso andare a sinistra il prossimo turno. Eh, guardi. Sì. Dai, usalo adesso il dado. Aspetta, suggeriamogli... Ah, ok, ci arrivo. Sì, è bravissimo. Come suggerisci un dado, un S. Così. Con questo, esatto. Oh, adesso fa il triplo 7, adesso fa il triplo 7. No. Per uno. Vabbè, che brava a contare. Non vuole andare su, ecco, brava. Eva può comprare anche il portiere. Cazzo, ma Eva, nooooo. Mi ruba la chiave. Adesso comprerà il blocco in ascolto e non prende la stella. Non prende la stella. Magari c'è la stella nella carta a blocco in ascolto. Ma Eva, cos'è questa cosa? Che delusione. Certo, almeno la stella è meglio. Vabbè, magari non sapeva cosa faceva, però mi regala così. Mi ha visto, mi ha visto usarlo. Eh, ma ma Eva è genuina, ragazzi, non è come noi che ci vestiamo i piedi. No, secondo me ha visto forziere, ruba le chiavi, appunto, perché è un forziere. Esatto. No, lei probabilmente non guarda i turni nostri. Come sospetta, ecco perché ci mette tanto. È vero, può darsi. Quindi è vera la teoria che non ha visto il Censtein dove ha perso una stella, quindi pensa di averne due adesso. Esatto. Cioè, si è accorta adesso che vedeva come una. La prenda adesso. Ah, no. Che coi passi ci arrivava. Aveva predictato sta cosa, ma Eva, ragazzi. Cioè, Galaxy Brain. Va da Bowser. Oh, no. No, secondo me non tre. Sono quattro da qua. Quattro e ora no. Di uno. Si ferma prima. Beh, su la rivoluzione Bowser per me era un bel casino. A parte che... Oh, piace a martellante, piace a martellante! Nooo! Bombs away. Vabbè, comunque devi arrivare almeno secondo. Ah, bello. Si. Anch'io mi tuffo, aspetta. Allarembaggio. Allarembaggio, ragazzi. Oddio, adesso non è che Maeva prendi... Ecco, dobbiamo aspettare a Maeva che è un allarembaggio. Esatto. Niente, adesso, questo gioco lo sento molto più legnoso di qualunque altro gioco. Non so perché. Nooo, ma è va... Nooo, sono morto anch'io! E quindi Daki la porvar. Cazzo, non so come sono finito giù. Ecco, Daki, fammi stare sopra. Sulla testa. No, stavo servendo giù. Oh, 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 oh! E ci siamo ancora. Ok, bravo. Nooo, guarda, con Rosalinda quasi sembra che si tendeva la mano a Rosalinda nelle posizioni così. La forza di Val Luigi. E invece vedevo Daisy Warrior, è una cosa molto grottesca. Tanto, Maeva è ancora tra di noi. Minchia, davvero, è hardcore player, Maeva. Sì, ma io penso che se uno seleziona 20 turni, boh, difficilmente qui. Sì, togli la massa di persone che partono subito a caso, quello sì. Esatto. 69. Nice. 699. Si avvicina. Beh, Maeva, mi hai fatto questa grazia e... ne approfitto. Oh, questa banca. Vabbè, perché ci arrivi? No, la sera no, non ci arrivo Di là vado su una blu Faccio una laki No, che pare Sette monete 35 io non ci potrei arrivare col triplo E' altro che fa tanto rubo, quindi non avrei le monete Allora A chi rubare adesso, però? Beh, ma Eva non ha un arvocato, quindi... No, ma Eva no Allora, poi tanto... Allora, Ness o... O Raed Io al momento vado su Raed che ha il tubo Sì, lo so, però tu sei sulla strada Per rubare dopo col bu, quindi era un deciso Comunque Ma Eva no Era fuori dai giochi, poverina Le abbiamo già fatto perdere la stella Che avevamo regalato Ma Eva avrei dovuto fare la nicolata Perché era lei In fin dei conti era seconda prima di questa stella Sì Dieci devo fare Non uscirà mai Beh, c'è verde, verdi Ah, giusto Adesso mi sbaglio a prendere lo frutto Ok, se faccio uno e due Mi va bene Va bene Preciso, preciso Ma su c'è una blu anche Ma giù c'è la fortunata Vabbè Aspetta, faccio lo scherzone a Maeva No, la voglio, la voglio Ma Maeva non sta neanche guardando Ness, quindi... Esatto Guardalo Maeva secondo me sta sullo smartphone tutto il tempo A chattare col ragazzo E appena sente fischiare E noi fischiamo Ah, sui, sulla strada Ce l'hai davanti, ce l'hai davanti ancora Dipende, vediamo i bivi com'è Eh, girano i cartelli alla prossima Ce l'hai in quella direzione Giusto Ottimo Beh, ma io la prendo quella Mi lupo il tuo Ah, già C'è il negozio davanti Ma usa lo sto fungo Perché non la usa? Vabbè Va, va, va È uguale il bonus rose Che ama la stupida Cioè, vincerà proprio con quello Oh nooo Ok, fischi contro lei Oh, è il più bello poi Questo lo adoro di uno contro tre Ci facciamo shottare tutti i turni a uno Quindi non sappiamo le sue pattern, le sue predict E ci facciamo shottare tutti un polpo Secondo me non sa che c'è la posizione neutrale Infatti Cioè, siete proprio cattivi Cioè, ogni gioco che facciamo non deve sapere qualcosa Ah, guarda Eh, vabbè No, povera mai Tentevo la fregarella finale Adesso ci è matta tutti con fuori Ah, vedi, lo sa allora Brava Fu a destra e a sinistra? Sì Stande Non era giusto però Perché non dovremmo essere in voice chat No, c'hai ragione Siamo stati disonesti Le ritiriamo tutti scusa, ecco, bravi Il polpo quitta, veramente Ha quittato, ha quittato Nooo No, ragazzi Oh, raga, il cazzo di Lukeway combinato alla fine l'ha fatta quittare Porca Eva, siamo delle merde, siamo delle merde Ma come fate perché era combinato, dai Siamo delle merde A me che stia guardando lo streaming non può saperlo che era combinato Ah, beh, c'è sarà il successo Sia, secondo me lei percepisce l'aura delle cose, qualcosa del genere Ma magari ritorna, ma dai, io voglio pensarlo in modo nuvino Sì, vediamo, speriamo che le canta la connessione Al prossimo turno vediamo, lo scopriremo Anch'io ti fa Omaeva, anche io ti fa Omaeva onestamente, suora Gli ho dato prima anche una stella col chance time, più di così Hashtag sob di tua dette Non so, vera, ma è un po' che Omaeva Spero vincere la CPU Beh, la CPU non può vincere i minigiochi, quello è abbastanza sicuro Ah, ce l'ho ancora davanti Sì, però c'è anche la ki-man col tripo, quindi no Sì Qua dammi una bella item bag Aspetta, ma è prima o dopo della banca? Eh, dopo Eh, vaffanculo, allora non posso È vero, sì Eh, già Eh, già, quindi niente Non posso neanche comprare il tubo Ragazzi, questa partita non ha più senso Infatti, ci consoliamo con gli applausi, va Chissà quanto applaudire Sì, avremo di meno Sì, avremo di meno Esatto Dai, dai, torna al prossimo turno Vabbè, però raga, abbiamo visto questa sera che è fattibile sta cosa Adesso diventa una merda perché c'è quella CPU inutile Soprattutto nei minigri, se la trova in team è una merda Però è fattibile come cosa È brutto che quintano tu Purtroppo, raga, è così Eh, adesso puoi usare la chiave Eh, puoi andare al buco molto Ah, giusto Eh, sì, preferisco l'altra chiave Dice che stava proprio bene nella mia tasca Che dice? Mi piaceva l'odore delle tue tasche Lo dici anche a Donkey Kong che non c'è la tasca Eh, beh, ma anche tu Vabbè, sì, io ti vedo come Sprucci No, ma io ti vedo come Sprucci, certo Ah, no Eh, Sprucci, ti tiene in bocca Ti tiene in bocca, infatti, come ogni cosa Per questo avevo detto quale Eva, avevo detto quale Tark No, cioè, dai, questa CPU che sperpera così i soldi di Maeva Però non si può vedere, ragazzi, cioè Ecco, adesso scopriamo a fine minigri La cosa super caotica che la CPU fa chance time Prima Maeva ha fatto un chance time, cosa ha fatto? Ha dato soldi a qualcuno, tipo Ha dato soldi a me 30 monete L'hai visto, Ness, questo di Zoom Zike? Sì, che... Ma c'è ancora quella cosa, non l'ho provato, sai Se c'è il monte bisogna tornare a destra, infatti Perché se vai a destra, infatti Però non so, penso l'abbiano fatto Ecco, infatti, vedo il monte Ho visto il monte a sinistra, quindi ho cambiato direzione Ah, ma quindi c'è ancora? Cazzo Nooo, come ho fatto a cadere? No, sto scivolarsi Scivolata letale, perché arrivo terzo Come è questa cosa del monte? No, non la sapevo Tipo a sinistra, ti devi affacciare Cioè, tu vai sempre a sinistra E se vedi una montagnetta Vuol dire che è la pista difficile E l'albero Dopo ti dico il video Di quel tizio lì che fa tutti i video Di Identifying Luck Di Mario Party 4 Io pensavo l'avessero tolto, onestamente Invece Ah, non è tornata Ma è vero L'avrebbe detto adesso Inizio turno Dai, quindi diamo qualcosa alla sua CPU di merda Giustamente Vabbè, la tarpa aiuterà meno Eh, infatti Mario Mario, cioè Struzze Per me è Mario È Mario Tre persone diverse Oh, una sotto Ma Eva, secondo me Adesso, questi mi bullizzano Mi fischiano Continuamente Mi mettono Sì, questi siamo stati abbastanza molesti Quello Io comunque l'ho detto Dovevamo farci shottare al giochino della facce A primo polo Eh, ma come fai farti shottare? Fai posizione neutra e prima o poi ci arriva Che Minchia Fatto Cazzarola Ho ricevuto una richiesta di amicizia comunque Ma tu serio? Che si ama Eva? Io no Ce l'ha proprio guardo Ma neanche a me Ha capito che tu non ti hai accordato Se probabilmente ha guardato lo streaming Dice l'unico che non ha fatto accordi Ma Eva, are you here? Ma non credo che abbia trovato lo streaming così a caso Ma Eva, we miss you Ma Eva Come back here Ma Eva per mandare le hate mail Esatto Cazzo Io Suora Quando c'è la gente che mi quitta Dice in time Io Quanto cazzo vorrei avere il Il Miverse lì Porca Eva Madonna Pagherei Pagherei per averlo Io qui ho fatto un errore perché dovevo prendere Infatti mi sono reso molto dopo aver shoppato Dovevo prendere il dado d'oro per Adesso sniperare la banca Mi prendevo Eh già Un sacco di monete Vabbè che il dado d'oro lo pagavo 12 Però comunque mi prendevo Quante? 32 monete? Quante sta adesso? 32? Eh Tanto Più di 30 Quindi mi prendevo Eh Mi prendevo 20 monete gratis Ah la verde la giro Poi la rigiro Dai che culo Che culo Oppure Aspetta Ho una teoria ma Eva Si è disconnessa Ma non sapeva della roba Che puoi riconnetterti Due tubi Perché neanche lei si aspetta Che Nintendo sia così avanzata Con online Ah non compri il secondo tubo No perché poi si Ho problemi di soldi Ma secondo me Boh Ce l'avete potuta fare Beh adesso è la stella davanti Anche perché c'hai il blocco nascosto Ah è vero Vabbè Ah ma guarda Rai Che bella collezione Di oggetti dorati C'ha comunque Si Ah direi che 23 Non lo faremo Ho fatto 10 Contro Contro il dame Ma che bella banca Piena Di soldi Eh già Vediamo cosa esce Oh 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 cavoia Ok mi dici quando premi esattamente così capisco che io Eh io ho pigiato sì Ho pigiato sul blocco nascosto Quindi è effettivamente quello dopo Io avrei fatto la chiave Io premo sulla chiave che esce quello dopo Io ho sempre fatto così E non ho mai fallito tra virgolette Però non mi ricordo di aver fatto degli errori grossi su sto gioco Io vado il secondo bambino Certo prima di quello che volete Ah ma adesso vado pure Vado adesso Cazzo Eh ma sbrigati perché qua c'è il timer Al minigioco Quindi rispetto Allora dai Vado al prossimo turno No no vai Al prossimo turno Tengo tanto il timer Scalzi Beh posso stallare Dopo stallo di 30 secondi Che ho a disposizione Così Ah devi andare a pisciare Ok ma pensavo che No ok Pensavo che se la avresti Ah ma la prende Maè Ah no non ha sogno Ok Ah no maè va no Perché continuo a chiamarla così Non c'è più lei Perché cioè Maè va sempre Sempre in Cazzo se la giravi qua Però andavo so fare il chance time Vabbè Ecco adesso trovo la borsa No Lastre lastre No Gli incisivi No Oh vabbè Questo è tondo E Quindi doveva essere Meno ostico Degli altri Sì Questo è abbastanza Fattibile No Ho sbagliato malissimo Il braccio sinistro Ah però Il bot di Maèva Io sono partito male Però Oh Secondo Eh vedi come ho sbagliato Quel braccio a sinistra A destra Cioè Alla destra del V Paparapapam Ok Adesso mi girano le frecce Però Sì Quindi per prendere quella Dovrei usare il tubo Però non mi fa impazzire lì Perché adesso nessuno ha tubi Quindi chi la può prendere Nessuno A meno che qualcuno non giri A meno che Maèva non è pazza Gira le frecce Quindi però Raspetto Io l'avrei usato all'ultimo turno Come momento hype finale Eh ma così mi tolgo un item Toh Va che hype Beh ti credo A prendere un altro item Eh magari Cambiavi l'RNG All'ultimo turno Oh sei ancora Tu Figaro fatto tardissimo Che tiro di merda Uh Bowser è evitato per un pelo Sì Non so Non so Puoi girarsi No Eh che palle R'abbonamento ai 7 Ah ma lui gioca prima di Maèva Ok Ah che non sta giocando Sì Ah ecco Puoi giocare solo 30 secondi eh Sì Allora vai in bagno adesso Così Sì dopo questo vado in bagno Allora così Aspetto Aspetto i miei 30 secondi di turno Così Mai più tempo Eh però dopo non so se ti scade il tempo per il boo sai Questo Alla 12 Quindi Alla peggio vabbè Tanto c'è il minigioco Ah quindi ti rubi i soldi a te apposta Così non ci sei Così non puoi mashare Esatto Figa ma è già su smash su ora Di dargliesi una calmata T- su smash daisy Daisy sì Eh ma oggi è andato un po' meno tipo Cioè ha già giocato tutto il giorno Che cazzo gioca ancora È proprio un We are daisy top tier Top fan Secondo me Perché si sta fishando addosso Non vuole che il turno duri di più Ok Ok Aspettiamo un po' Calma Aspetto fino a 15 Aspetta fammi vedere la mappa Fammi giocare Ah non vedo il timer Da con la mappa Oh oggi tutti Bowser Sì Appure Dai così c'è anche il tempo di Bowser Oh insomma Stapartita la possiamo vincere in quattro Quindi ciao No Povera Maeva Non avrebbe amato L'avresti fatta quittare a questo In questo momento Sì vabbè Non è Maeva adesso L'abbiamo persa Rael È inutile piangerci sopra Lasciamola andare Non se ne andrà mai Vabbè comunque dovevi rubarla bene E vai Bowser Così Da chi non ha più tempo Per andare in bagno Bufu Ma scusa Se sto qua Non c'è un tempo limite Mi sembra Eh non lo so Cioè Non sto premendo A Vediamo Ah ha fatto da solo No Revolution no Ti prego Ah no Io in realtà Ho meno soldi di tutti Vero Non ne ho tanti Ah potrei perdere la stella Che ho appena rubato Come Come Che cosa mi sa che succede No Lo basta Basta Vabbè Diamo più tempo Sempre Spero che Da chi non arrivi Perché è un momento Molto cruciale Eh sì Minchia Dieci monete Eh Alessandro Magari sono le dieci monete Decisive La vittoria Ok Vabbè Lasciamo scadere qua Più di così Non possiamo fare Oddio Questa è la bocca Da copertina Di Mario Kart Tour Nike confermerà La primissima copertina Di Mario Kart Tour C'era Bowser Con la mascella Così Tipo Ah è arrivato Andiamo Sono finito da Bowser Sì Hai rubato la stella Al bot di Maeva Ok Very cool Oh sì No È la faccia che fa Wariozzo Quando Vede una merendina Poco Mister Daco Medina di cioccolato Mia Boh Vabbè sembrò qua Ma abbiamo fatto Tutti uguale No Non aveva le guanze Ah Non ho spostato il naso Il naso Non ho spostato In sotto No Di un punto Di un punto Di averne più di 80 Non c'entra Chi vince Sì ma abbiamo fatto Quasi tutti il pareggio Ah ok Non ha perso Non ha perso Nessuno Bene Bene No pensavo fosse Quello che rubava Pensavo che rubasse A Di arrivava l'ultimo Quindi No Nike Non si ricorda L'immagine di Mario Kart Tour Col Bowser Macellone Ma Nike ci gioca ancora Mario Kart Tour Mi sa che è morto No È tornato Dan Z Su Mario Kart Tour Comunque Vabbè ma che riprendi Si vede che ha preso Un nuovo telefono Che gli permette di giocare La CPU ha fatto 83 Sbagliando Non ho guardato Quindi Suara Stai dicendo che questi giochi Appunti sono un po' rigati Può essere L'ho mollato da un pezzo Bravi Mollatero tutti Così non ci gioca più nessuno Lo chiudono come Dottor Mario E fanno Mario Kart 9 Mini giuoco Oh no Abbiamo perso Sì ma noi abbiamo Il bot inutile No Qua se avete labato Quindi non so Quanto potrei vincere Io non ho labato Da Kim non ho labato Quindi Sia io che il bot Ci affidiamo Da Kim Ecco là Ma come si fa a fare L'onda nuova A volte La vedo Ah ecco tipo questa La cosa difende Non lo so Ness però Lo sai che la tech qui Non è fare l'onda Anomale Oh mamma mia Grazie Siamo perso Bravi bravi Eh ma hai perso tempo a fare Stai cazzo di un'onda nuova Basta che masci con le piccole A me infatti con l'onda nuova Le stavo buttando fuori Eh no Invece io l'onda nuova Le ho saltate Ho preso un sacco di tempo Perché le vedi Quando arrivano Sono quelle più prevedibili Invece quando mixi Saltini Saltoni È difficile Ah tre turni Mancano solo Occhio Occhio La stella è lì Eh stia cazzo di frecce Minchia Perché quella troia Del bot La girate Ma cazzo Cosa cazzo vado a fare lì Io cos'ho Dove so Ok No Non arriva neanche Al chance time Beh uso il tubo E Cerco di fare uno Dai Ho fatto uno tutta la partita Adesso che serve? Eh te pareva Vaffanculo A me non puoi vedere il dittino A cade di dito Ma che se no Ficchi in culo quel dito Cioè ci sono stati più sviluppatori di pokemon Mario Kart Tour ha fatto 4 milioni a ottobre Minchia Io vorrei vedere quanto è avvenuto sto gioco Non so se si può già vedere Penso di no Troppo presto Eh vabbè che chiede Uh quella è davanti Che chiede davanti Questo perché ho mancato il chance time E il karma per aver mancato il chance time A caso Cioè non che Volo Eh ma prima Sei di nuovo qui Sì Perché Prima È tornata nel punto Dove c'era la prima stella Senza fare questo punto qua Secondo me ha detto Ti piace così tanto il mio dittino Che te lo rifaccio vedere Ah se vuoi fammelo vedere un'altra volta C'è un altro punto dove puoi venire Se puoi venire sotto la banca Adesso Ah no Non avrei soldi perché c'è la banca No Non ti batterebbe Oh va bene Puoi andarci Sì È la chiave Puoi andare su Non è male Oh capo sta banca Mamma mia Già Non c'è andato nessuno Esiste un cap della banca Cioè Immagino 999 Non lo so No Sopra i 100 Secondo me Da 99 finisce Sì perché Tre Tre cifre ci stanno Di sicuro Chiave 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 No E vabbè Ancora 7 Oh Gesù A parte che io ci posso arrivare anche a Aspetta A piedi sì certo che ci posso arrivare 7 Sì Devi fare 7 Aspetta ma Hai guardato le direzioni Sì sì Ha giocato adesso Grazie Oh mi fermo davanti Comunque è bene Vabbè mi fermo davanti Però aspetta chi c'ha il tubo Non c'ha nessuno il tubo quindi Adesso trovi pure la chiave Ah no ce l'hai già C'è l'eaten bag però No la chiave la vorrei io Poi mi dia una chiave Da doppio Non è quello che volevo Però Oh forse comprerò anche un tubo Tu lo sniperi la banca Oddio finisco Può farlo anche Peach Ma Eva quello che è Finisco a fare il duello Con Ma Eva Nooo Che è quello più facile della vita È una cazzo Ah no Ah no Che cazzo È una cazzo di cpu media Dai adesso fa uno Ho letto letta uno Di snipera Esatto Fa la banca No fa la banca Fa la banca Fa la banca fa registrare No impazzita Cosa sta facendo Sai cos'è Oddio Fermi fermi Si ha sniperato Bowser Fermi un attimo Vuol dire che sa Che c'è l'evento C'è la stella bonus Bowser Si ha sniperato Bowser No vabbè Qui c'è il tubo nascosto No niente Ah ok È stata una giocata a caso Allora Abbiamo sopravvalutato la cpu C'è stata la schermata nera Che è durata un attimo in più Del dovuto Allora No, ho sbagliato l'ultimo, vabbè Eh, ho sbagliato tre volte Non ci riesco, non ho riflessi per stiminio Sì, se non sbaglio avevo vinto, vabbè Sì, ho sbagliato tre volte e ho vinto, vabbè Eh, ma io sono caduto giù di due foglie, cazzo Proprio quello che non devo sbagliare Io non so cosa fare adesso, Chris Potrei duellare ma Eva, così, for the content La riduciamo a zero stelle e zero monete Faccio un bel po' di cash No, perché A sto punto snipera la banca Ma se ce l'ho dietro, Ness Eh, ma non ci arriva Ah, giusto Ah, così c'è Keef che ti fissa Guardalo Io vorrei fare il senstem alla fine, cazzo Però non ho la chiave, porca Eva Porca ma Eva Vabbè Per una Bowser, giusto? Eh sì Oh no Dai, bonus Bowser C'è qualcuno che ci è andato due volte? No, io ci sono andato prima e basta Bene, allora sono in lista per il bonus Bowser Vabbè, non ne avevo già Ah, delle monete Allora c'è ancora un punto dove non è venuta la stella che è davanti a me, adesso quindi io non ho soldi, non posso prenderla Tu userei il tubo, bravo Bravo No, è stato Eh, è il doppio tre adesso No Però ci arrivo al V, perché io lì vuol i forti No Mi sa di no Mi sa di no Che cazzo Quel titino qua Così hai il tempo di fare soldi, no? Magari vai alla banca, non lo so Eh, magari cazzo Eh, forse Sai che forse, forse Quello sarebbe il colpaggio Contiamo Quanti set? Eh Sì, va alla banca Oddio Va alla banca No Va alla banca Che culo Sicuri? Mi sembra Non è uscita in un punto Quello davanti a me, qui nel cerchio iniziale Quindi Eibon non li fa tutti No, mi sa che non arrivi alla banca Oh sì Non so contare Quattro più tessi? Sì Sì Acquista qua che scopriamo Sì, 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 è la banca, grande Madonna Che colpo Sì, veramente Wow Complimenti L'acciaio Sì Ah ma il prossimo è l'ultimo turno Allora niente Che palle Uffa Wow, prenderò le monete di tutte le banche Golden Shower Sì, veramente Fatta voi Tutti gli sforzi di Maeva erano in quella banca Questo potrebbe essere Potrebbe essere bonus monete Eh beh sì 50 così Che cosa mi spinge ad aspettare l'ultimo turno? Niente Quindi andiamo Ti spinge che non la metti in faccia a qualcuno Quello Quello sì Però Metti che dopo c'è Usciva che ne so Ah beh Da quella zona lì non c'era niente Ok Chi c'è lì? C'è l'ultimo turno Eh mi sa che tu ci puoi arrivare dopo Ah beh però Sì A forza di uno Con la freccia sì Con la freccia sì Con la freccia sì Ce l'hai giusta La freccia di ma dovrebbe fare A parte che mi sa che non c'ha No Guarda Se mi esce adesso Quello della stella che costa metà Ok non dovrebbe essere Ma ne hai 30 Sì ma non c'ho l'achievement famosa Che achievement? Quello di pagare la stella No ma Eva si fa il bonus Bowser Punta troia Mettili tutti Mettili tutti Stronza Porca puttana Vaffanculo Adesso mi ruba il bonus Bowser Lo so già Lo so già Esce e ce l'ha solo lei Perché 14? Codarda Perché Ah Perché non Non è di più Ah è vero è vero Ok ok no va bene Posso riaverne di più Posso riaverne di più Adesso beccatevi che perdo con la CPU Se c'è quello delle lanciate Lo so già Oddio non è Mario Party 6 Che aveva salto nel buio Che era La fortuna Oddio Ma la CPU saprà già Dov'è la strada Perché hai skippato la cutscene Che ti faceva vedere La strada Ah sì Lo sapevo E beh penso faccia la visuale dall'alto Fino a voi Il CPU non è che si sta È un po' confuso Io vedo una strada Spero non mi incuri però Sul più bello Ok l'ho già trovato Sì È una pagina Questa È un po' confusa Eh ma è quello il problema Di quando quit la gente Che mettono la CPU a livello medio E fa schifo Almeno mettila di fee Cioè da un po' di sfida Cioè così è proprio Oltretutto quando te la trovi in squadra Nei giochi in coppia Hai perso Perché Non sta facendo niente Tipo i giochi da meshare Non schiacciano Adesso tanto se li riprende Tipo No gli darà soldi Bowser Perché è ultimissimo Sì Eccolo Sta aspettando un po' di più a parlare E invece 10.000 monete Scontinuo Ooooooo Qualcuno va al buddy Da Kiemion quindi Era il piano di Maeva? Vabbè io ero lì Grazie del cazzo Maeva Cima Nesco Oh Oh Nesco Oh Cavoli Eh devi vincere a minigioco Beh lo scambio quello Quello tra Ryle e Maeva Proprio Sì figa davvero Tutti contro Nesco Eh noi abbiamo Maeva però Daki Quindi è difficile Eh lo so Poi questo è già impossibile di suo Vabbè Quella cazzo di CPU Figa Vabbè addio Eh vabbè Non so neanche se Se serve provaccio Va bene Cazzo Nes che colpo Mor Porca Eva Eh già Cioè è andato nel punto giusto Gli è uscito il minigioco giusto Più di così Non lo so Cristo Eh ma Eva che Dopo avermi Mandato la richiesta D'amicizia Vabbè era lei davvero Bene detto Eh devo dopo guardo Cioè non ho giocato online Cioè non ho giocato online a niente Non so chi possa essere Boh sull'Xbox a volte ci sono delle Signorine molto procaci Che mi mandano le richieste d'amicizia Eh anche a me su Playstation Network Per questo ho messo infatti Che Cioè posso ricevere i messaggi Solo da persone nella lista amici Perché se no mi aggiungevano Per l'ultimo turno Con la Lucky faccio Eh ha senso fare passi Perché io ne ho fatti pochi Ho tirato un Quel venti Però oltre a quello Ho fatto uno uno Io faccio uno Per la meno passi Faccio una blu Sperando che sia un blocco Nascoth O potrei fare una rossa Sta scadendo il tempo Ha senso No quello non ha senso Perché ce l'ha Ma Eva sicuro È vero C'è andata venti volte Sulle rosse Dai risfidami Stronza Dai vieni Ora Possiamo fare ventuno O niente adesso Ah lui ha il tubo Non so anche dove era la stella Sì Era lì vicino a me Però a 12 spazi Comunque non c'eravamo Non c'era motivo Per il reato Per non l'utilizzare Ah è qua ok E Ness adesso sì C'hai soldi per rubare la stella Eh purtroppo sì Secondo me Ness Se rubassi i soldi a Maeda E poi potrei tirare male Comunque Ho fatto uno e due Tutta la partita Anch'io Ma no Ce l'hai qualcuno davanti Ah no è vero Ci sono qualche caserna Io l'unica volta Che dovevo fare uno Che era Quando avevo la freccia Girata al contrario Che mi fermavo lì E il turno dopo si girava Ah ok È dietro di me Eh sì Eh sì Dov'è il dato Che mi fa tirare indietro Un'altra verde Occhio Sì Vabbè A chiunque ruba Ness Ness è in vantaggio Siamo pari Siamo pari In questo momento E mi sa che non lo sa Siamo pari Va da Bowser Ness Oddio No basta Bonus Raga vince Ness Adesso va a 5 Bonus Bowser Eh Io Tanto Eh vabbè Tanto lo sappiamo Che io non vinco mai Quindi ci sta Ness Va bene Accetto la mia morte Così almeno vedo Rosalind a vincere Nel mio schermo Vero è vero La vedi solo tu però Ah ecco dopo ti passo lo screen Con Rosalind a vincente Così Nessuno sospetterà niente Sì tranne che c'è il nome Lo censuro Fai la foto grande Non c'è il nome Quando allarghi Ah bene Vedi Dai Bowser Che vuoi da me La stella che ho appena rubato Di nuovo Sarebbe interessante La rivoluzione Basta me di giochi No Aia Questa la riapre La riapre Perché Ness torna a 4 Beh io Dovevo fare due bonus Però Non so che Ho meno passi Lo sapevo che Devo rubare i soldi A Maeva Dai Maeva Rini uno Naffanculo Adesso blocco Nessun post No Niente Beh ci siamo passati No ma Maeva Figa Gli ultimi tre giocchi Li ho buttati nel cesso Per sto cazzo di bot Oddio Aspetta Tu non sei Rael Tu sei da Kim Anche se sei Rosalind Ok ma Siamo Eh vabbè Dai sto cazzo di bot Però io Spero che il bot Faccia i miei Infatti sto comandando Solo io Adesso dal salto Si decide di curvare Oh scusa Adesso non sta curvato Proprio Quanto è il vostro record qua Io ho un minuto e quattro secondi Segnati Anch'io Forse ho recorto con me Anch'io Ma io non ho fatto il minigioco Per fare il record Comunque Ness Quindi io No Dai bot Bot ti prego No pensavo che Curvare solo io A breve Sarebbe bastante Secondo me Adesso tipo Maeva Ritorna in partita Durante il minigioco E vede che sto morendo E mi spinge giù Oddio ci stiamo capottando Maeva No no Stavamo andando al contrario Tra poco Wow Vabbè Questa è la di Maeva Questa vittoria Guarda il vapore Dell'alito di Struzzi Che esce Beh io non ho visto L'alito di Rosalina Il celestial breath Ah meno passi Ok punti ad applaudire E minigame Dai questo è minigame decisivo No Forse io Eh Ha vinto Maeva No Sì io Ha vinto Wario E Davey E la vatte pari Lui ha meno soldi Ness Eh sì Quindi gli serve un altro bonus Event vensi sia la Kimeron Io ti ho andato un sacco di volte Eh sì È da Kimeron Sì No What What Quindi chi ha vinto La Kimeron ha più soldi Ha vinto Maeva Io ho vinto Quindi ha vinto Rosalina Nessi con te Vi vedi una victory pose Cazzo se non la rubavi Ne me Nessi avevo vinto Figa Eh già Che ne sapevo Eh scusa Lui era pari con te Era il tu Eh poi andavo da Bowser Mi trovavo tutti i soldi Vabbè Ma sì Avresti vinto una bellissima spruzzi Invece adesso devo vedere Wario Applausi 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 per fibra 209 Minchia me ne mancano 900 Per l'achievement che non me ne farò un cazzo Lo fisso Minchia terzo No Quello col conio che ti guarda Che schifo No Volevo essere ultimo Hai svuotato più Banca e Cuba degli altri Vabbè Ci sono andato solo una volta E' l'unico che c'è andato Vediamo i bonus di Maeva Ha fatto più passi di tutti Sì sì Cioè io guarda quanti passi ho fatto A me sapeva meno passi Quindi il mio uno alla fine non serviva niente Ho fatto Ho fatto tre turni di fila con due Ma io Ness E io Cioè E tu molti Hai fatto molto A me non sembrava Comunque avevo la rich star Quattro rosse Maeva Avevo la rich Gli otto monete da Dachimeon Ah c'è io avevo bonus Bowser Eh sì Io avevo più minigiochi E più oggetti comprati Basta Ha usato sei sticker Ma è vai Non me ne ho notato solo due Avevo oggetti Ne avevo un botto raga Cazzo che sfiga Avevo verdi Oggetti usati Oggetti comprati Rich No passi niente Un po' ne avevo cazzo Oddio Ho sbloccato la civmente Fan di Bowser Ah sì quando vai 50 volte su Bowser No quelli c'ho già Tutti con un Censai Cazzo E non ho potuto fare Il Censai in finale Mi avrebbe fatto vincere Vabbè 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 Buo ragazzi È stato Aspetta che vi dico Chi mi ha mandato la La richiesta amicizia Speriamo che troverei Una quarta persona Lo stiamo Vabbè Vabbè Vabbè